Rilanciare il ruolo dell'edicole potenziandole e trasformandole in punti di riferimento per l'acquisto di prodotti di qualità made in Tuscany e in punti di accesso a servizi non sempre facilmente raggiungibili. È questa l'idea alla base di Edicola Km3, il progetto dell'azienda distributrice di giornali e libri Giorgio Giorgi SRL presentato a Palazzo Strozzi Sacrati alla presenza del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e di Gabriella Giorgi, figlia del fondatore della Giorgio Giorgi SRL. Le edicole come spazi aperti, come un servizio alla cittadinanza, laddove si va per comprare il giornale ma dove si va anche per svolgere una funzione che è quella di servizio per il commercio alimentare, di prodotti di uso-consumo in modo che l'edicola diventa un vero e proprio presidio di incontro, di distribuzione commerciale, di facilitazione nel consentire al giornale di poter essere accessibile a tutti. Insomma, un supporto regionale per trasformare l'offerta dell'edicole e renderla più al passo con i tempi. Edicole che, per la Regione, sono dei veri e propri presidi nella comunità. Grazie ad edicola chilometri zero potranno essere acquistati o ritirati prodotti di vario tipo, tutti rigorosamente di qualità e realizzati in Toscana, come olio, vino, creme o saponi. La nostra mission è quella di alzare il livello dell'edicole, vendere prodotti di grande qualità e aiutare le aziende toscane del territorio che hanno bisogno di essere rilanciate. Quindi, diciamo che mio figlio che fa economia mi dice è una strategia win to win, cioè dove tutti vincono. Grazie. 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 Grazie a tutti.